Ciao ragazzi, vi ricordate di Ian Thorpe? E' quel ragazzo che ha vinto un sacco di medaglie d'oro a tutte le Olimpiadi e che si è dichiarato proprio quest'anno omosessuale. E allora mi è venuta un'idea. E se anche noi persone omosessuali, gay, lesbiche, trans, transgender, queer, mascoloni, famigli e l'interessual indecisi, quelli che sanno nuotare o che vogliono imparare a nuotare qui a Napoli, volessimo metterci insieme e creare un gruppo dedicato a Ian Thorpe? E dai, proviamoci. Io vi lancio una sfida, a nuoto ovviamente. Parteno per nuoto è la mia piscina. Ci vado di solito il giovedì e il sabato intorno alle 9. E si trova a via Arenella, salita Arenella, numero 9. Per fare tutti quanti insieme nuoto libero. Per ulteriori informazioni, leggete qui sotto. Proviamoci a nuotare tutti insieme. in nome di Ian Thorpe ed è la nostra libertà di fare sport tutti insieme.